Un saluto a tutti Della redazione di Rossini TV E benvenuti a questo nuovo appuntamento Con il Vallefoglia Magazine Il settimanale di approfondimento Della città di Vallefoglia Prima di iniziare Con il consueto telegiornale Vi ricordo i nostri contatti Al quale potete inviare le vostre segnalazioni Qua in sovraimpressione Trovate il numero di Whatsapp Oppure la mail di redazione Vallefoglia Chiozzodarossinitv.it Vi ricordo che potete inviare foto Video, messaggi audio Oppure semplici messaggi di testo Ma iniziamo subito con la prima notizia Perché dopo 4 anni E arrivati le via libera Alle contratto delle fiume Foglia Lo ha annunciato con orgoglio Il presidente dell'Unione Comune Pian del Bruscolo Palmiro Cchielli Sottolineando come l'Unione Sia tra i primi nelle marche a farlo Il contratto di fiume È un elemento importante Anche dal punto di vista occupazionale Per esempio Penso a tutte le aree di esondazione Per attutire la velocità dell'acqua Che va da Belfort a Lisauro Al porto di Pesero Sono diversi milioni di euro Di investimenti Penso alla più grande questione Ecologica e ambientale Che è quella della depurazione delle acque In tutte e due le vallate Direi la vallata del Foglia Con la depurazione di Borgeria Di Montecchio e di Schietti Invece di avere 30-40 depuratori Con 3 depuratori nell'asta fluviale Per diciamo 30-40 milioni di investimenti Insomma sono investimenti importanti Che creano una qualità delle acque Dal punto di vista di un fiume Che attraversa molte zone industriali E quindi è una grande questione ecologica e ambientale Per passare dal sistema calanchivo Gli interventi nel sistema calanchivo Per passare alla sistemazione Ad un unico progetto Diciamo di protezione civile Dai beni culturali E la storia di questa vallata E dai rapporti Con la vallata dell'Apsa Petriano Il tavolo come riguarda Tavuglia Gabice Gradara Quindi un progetto organico Complessivo Con una mobilità pedonale ciclabile Che va da peso alla Carpegna Sono diciamo Delle piste per la messa in sicurezza del fiume Ma sono vere e proprie piste pedonali ciclabili Che danno la possibilità Di tutelare meglio la salute Facendo attività sportive Ma anche di mettere in sicurezza il fiume Sia nel periodo invernale Che nel periodo estivo E quindi è un progetto organico Di diversi milioni di euro Di investimenti Che migliorano la qualità della vita Delle comunità di questa vallata Che danno un'idea Anche sulle questioni Dell'agroalimentare Dell'agricoltura E consentono per Con l'approvazione definitiva Di attivare risorse Oltre che di spendere velocemente Quelli che sono in corso Di attivare risorse Dai ministeri E anche soprattutto dall'Unione Europea Ecco Con la conclusione Che è stata approvata All'unanimità l'altro ieri Poi adesso ci sarà l'approvazione Nei 15-16 consigli comunali La regione può interloquire Con lo Stato centrale E con l'Europa Per attivare altre risorse Per migliorare la qualità ambientale La tutela della salute Dei cittadini di questa vallata E per contribuire a ritornare Alla piena occupazione Che è l'assillo che noi abbiamo Perché quando tutti hanno un lavoro La situazione è molto più tranquilla E serena E sono iniziati da più di 20 giorni Classi saldi invernali Iniziati più tardi del previsto Visto il periodo complicato Che stiamo affrontando Siamo stati a parlare Con alcuni negozianti Che ci hanno espresso Il loro parere in merito Vediamo il servizio Diciamo che i saldi A regola vanno abbastanza bene In quanto la gente Ha voglia di comprarsi qualcosa Anche se la situazione è difficile Per tutti La gente si trova in difficoltà Però restando chiusa Tanto tempo in casa E comunque Non avendo la possibilità Di fare nient'altro Magari ha voglia di rinnovarsi Qualcosa nel guardaroba Oppure piuttosto che Comprarsi qualcosa Che veramente gli serve E il fatto anche Che forse Non ci si deve spostare Più di tanto Ma si rimane qui nel territorio Per noi negozianti È stato anche abbastanza Gratificante Diciamo Quindi Non c'è male Non ci possiamo lamentare Quindi un po' Rovescio della medaglia Il fatto che Non si si poteva spostare Dalle comune Perché molti magari Hanno comprato Proprio qua Valefoglia Secondo me sì Secondo me sì È diciamo Il lato positivo Che ci siamo ritrovati A vivere Perché la gente Non potendosi appunto Spostare più di tanto Ha rivalorizzato Il territorio Valefoglia Offre tutto Basta avere un po' Di volontà E noi ce la mettiamo tutta E speriamo continui così Differenza rispetto agli altri anni Sicuramente si è vista però Sì sì No no Si è vista Diciamo che i saldi Negli ultimi anni Non sono mai stati Non sono più stati Una vetrina Per poter fare No Un salto Per chiudere la stagione Perché con la crisi Negli ultimi anni I saldi Si sono comunque Fermati Un po' rallentati Con le varie offerte Che offrono un po' tutti Dappertutto Quest'anno C'è stata questa Piccola boccata di ossigeno Rispetto diciamo Agli ultimi saldi Abbastanza Spenti Diciamo che Ci sono Negli ultimi anni Ci sono stati Negli ultimi anni Diciamo che Non è andata Benissimo Purtroppo Ma Io me l'aspettavo Sinceramente E poi Secondo me Sono iniziati Anche troppo tardi Perché Si avrebbero dovuto iniziare Se non i primi di gennaio Ma Comunque 6 7 Troppo tardi 16 Secondo me Avrebbero dovuto iniziare Prima Soprattutto Sono iniziati Il giorno in cui Le Marche Sono ritornate Per due settimane Zanda Arancione Giusto Anche Anche questo È un problema Non da poco Però Purtroppo Io Non mi Guarda Non mi espondo Cioè Non Non dico niente Su questa cosa Perché Purtroppo La pandemia Quest'anno Ci ha travolto Cioè Nel 2020 E il 2021 E il 2021 Penso che non sia Tanto meglio Però La salute Prima di tutto Vedremo Andando avanti Rispetto all'anno scorso Quindi un calo Maggiore Molto Direi proprio di sì Ma tutto il 2020 Compreso gennaio 2021 E febbraio Non sarà meglio Sicuro Io Non sono pessimista Sono un ottimista Spero Diciamo che da Pasqua Che sia Tra virgolette Meglio Lo spero proprio Il riscontro Purtroppo Non si è visto E come Dieci giorni fa La gente Non c'è La gente Non spende La gente Anche se Secondo me Qualche soldino Alcuni ce l'hanno Però preferiscono Non spenderlo Perché non sanno A cosa vanno incontro Il domani E siccome Che il mio negozio Comunque non è Un genere Di prima necessità Quindi La gente Non c'è C'è solo Nell'alimentare Nei grandi magazzini Insomma Ecco Una situazione Di crisi Più dovuta Dalla pandemia Coronavirus O più in generale Dall'economia Degli ultimi anni Diciamo che Un insieme di cose Però Adesso questa qui Ci ha dato proprio Il colpo di grazia Questo anno qua Questa pandemia È stata Una cosa Proprio Non so Come dire Un temporale A ciel sereno Cioè Il cielo Era già nuvoloso Per dire la verità Perché sono anni Che andiamo male E adesso È stata una cosa Proprio Ci ha buttato a terra Poi non solo Anche tutta la burocrazia Ci sta buttando a terra Perché io ancora Non sono in piano Con la lotteria Perché Ho dovuto Cambiare il registratore Poi il registratore Non c'erano già pronti Mi è dovuto tornare Di nuovo A mettere un pezzo Dal registratore E poi Dopo il pezzo Adesso devo comunque Io Essendo piccolino Ho sempre tenuto duro Stretto Alle spese Non ho ancora Il banco Ma insomma I servizi Banco Ma Compagnia Bella Adesso Prima devo attivare Questo Ma questo A me mi comportano Spese Spese su spese Quindi Tutto questo Per me È per fare È per far sparire I piccoli negozi Non c'è Altra spiegazione Dal mio punto di vista Ed ora parliamo di un effetto Accaduto alla chiesa di Montecchio Dove il presepe Che era stato collocato All'esterno della chiesa Di Santa Maria Assunta È stato ritrovato Completamente distrutto Questo ignobile gesto Ad opera di gnoti Ha suscitato Grande rabbia e sdegno Tra i cittadini di Vallefoglia Un atto di grande inciviltà Che ha raccolto L'indignazione di tante persone Anche sui social Dove sono state caricate Le foto dell'opera Danneggiata da vandali sconosciuti Come sottolineato da diversi utenti E anche dalle donne Marco Di Giorgio Questo recente atto vandalico È la testimonianza Che la zona sembra essere Un luogo molto movimentato Ormai da tempo Ed un problema Molto insistente In questi ultimi anni È quello che riguarda La luce blu L'utilizzo degli apparecchi elettronici Come cellulari Computer E tablet È diventato parte Della vita quotidiana Dell'essere umano Un utilizzo che però va a discapito Della nostra capacità visiva Come ci viene spiegato meglio Nel prossimo servizio Allora Sinteticamente possiamo dire Che a causa di computer Cellulari e tablet Oggi uno dei grossi problemi Che coinvolge I nostri giovani Ma non solo È lo stress da luce blu Questa può andare a incidere Sia su quello che è La parte della disidratazione Corneale Sia proprio sullo stress Causato dalla continua attenzione A questi device Oggi cosa potremmo fare? Possiamo in primo luogo Faremo un controllo specifico Della capacità e della qualità Della nostra visione Quindi parliamo di controlli visivi Presso ottici optometristi riconosciuti Come ovviamente Un controllo da un oculista Che è sempre consigliato Dopo di ciò Possiamo anche pensare Laddove non è necessaria Una correzione specifica Di utilizzare dei presidi Anche estremamente economici Perché parliamo di occhiali Che vanno sui 30-40 euro Che ci possono comunque Proteggere da questa luce blu Soprattutto se passiamo tante ore Come i ragazzi Che oggi fanno Tanta didattica a distanza O anche il semplice Pensionato Che la sera si diletta A fare ricerche su Google O quant'altro Ad oggi È un fenomeno più diffuso Con i giovani Oppure con gente di età E fasce più adulte Sicuramente i nostri giovani Sono più soggetti E più colpiti Da questo fenomeno Oltre all'uso spropositato Dei cellulari I ragazzi A causa del Covid Sono comunque costretti Alla didattica a distanza Ovvio che questo Non aiuta Sul discorso della luce blu A maggior ragione Tutti quelli Che accusano Particolari fastidi Come bruciore Come affaticamento Pesantezza Sono quei soggetti Che possono andare incontro A problematiche maggiori E di conseguenza Sicuramente soggetti Che vanno controllati Ed eventualmente Pensare ad un ausilio Specifico Per la riduzione Di questo fenomeno L'orario più sbagliato Per l'utilizzo del cellulare Ce n'è uno Sicuramente I specialisti Sconsigliano L'uso del cellulare O del tablet O del computer Prima delle ore notturne Quindi sicuramente Come spesso accade Che il ragazzino La ragazzina Si mettono Sul letto A guardare I video I film Prima di andare a letto Sicuramente Questo è un fenomeno Che andrebbe Sconsigliato Se noi prima Questi fenomeni Li riscontravamo Nei soggetti Che passavano Esclusivamente Ore davanti al computer Per studio Per lavoro Ma parliamo quindi Di persone Che andavano dai 16 18 Anche oltre 20 anni Oggi questi fenomeni Li riscontriamo In ragazzini Di 5, 6, 7, 10 anni Quindi è ovvio Che il fenomeno Sta crescendo Ecco perché La tecnologia Sta andando sempre Più incontro Alle esigenze Dei nostri ragazzi E dopo la consegna Della settimana scorsa Presso le comune Di Vallefoglia L'associazione Diversamente Nella mattinata Di giovedì 4 febbraio Ha consegnato Le 5.080 firme Contrari Alla realizzazione Delle biodigestore Presso la provincia Di Pesaro E Urbino La consegna Effettuata direttamente Alle presidenti Della provincia Giuseppe Paolini E dalle responsabili Delle procedimento L'architetto Maurizio Bartoli Va a testimoniare Ancora una volta in più Come molti cittadini Di Vallefoglia Siano contrari Alle fatto Che venga realizzato Un impianto Da 105.000 tonnellate E nella scorsa edizione Delle Vallefoglia Magazine Avevamo parlato Della problematica Di rifiuti Che ha coinvolti Le comune di Tavuglia Un gesto Da parte Di alcuni cittadini Che non è piaciuto Affatto Alle sindaco Francesca Paolucci Come ci spiega Ai nostri microfoni Diciamo che succede ovunque Vedo poi In qualsiasi comune Posti di questo tipo Però non è pensabile Che Nel mondo In il momento in cui siamo Dove i servizi ci sono Dove le possibilità Anche gratuite Di Di Raccogliere Per smaltire i rifiuti Esistono Uno lascia Butta dal finestrino Qualsiasi tipo di cose Fa una passeggiata Lascia le bottiglie di vetro E Tanto altro Quindi I sacchetti Addirittura Vengono gettati Dal finestrino Delle macchine Anziché buttarli Negli appositi contenitori Non Non comprendo Il motivo Di queste Di queste azioni Se non Maleducazione Ignoranza Non ci sono Altre giustificazioni E' chiaro Che Non si può essere Più tolleranti Bisogna Anche se Non sono molto contenta Di dover Decidere Di mettere Telecamere ovunque Perché la gente Va controllata Perché Ritengo che le persone Debano anche avere Il loro La loro privacy Sempre ovunque Però siamo arrivati Al dunque Quindi E' necessario Abbiamo iniziato Sono già state installate Delle telecamere Delle fototrappola E sono già state riprese Persone Che Che gettano rifiuti Li lasciano fuori Dal cassonetto O lungo la strada Anche Ogni cento metri Più o meno Ci troviamo Una batteria di contenitori Se vedi che Un contenitore è pieno Fai cento passi E lo butti In quello Più vicino Invece no Si lascia lì E non è vero Che La società Deve Compensare La tua La tua inciviltà La tua ignoranza Tu devi Fare la tua parte I rifiuti Li produciamo noi Non cadono Dal cielo Sono prodotti Dalle persone Le persone Ne devono essere Responsabili Il servizio c'è E tutte le volte Che dobbiamo andare A prendere I rifiuti Lungo le strade È un costo Per la collettività E questo Se non va bene Pensare All'ambiente Alla tutela Del nostro paesaggio A vederlo A vederlo bello Pulito Pensiamo almeno Alla parte economica Perché è un costo Anche gestire Poi devo ringraziare Che ultimamente Tantissime persone Raccolgono Rifiuti Lasciati da altri Lungo i cigli stradali E anche questo È un atto Di grande rispetto Per il paese Dove si vive Ed è fatto Da gente Che ha un cuore Diciamo È un'onestà È un senso civico Molto alto E ora ci spostiamo A Petriano Per parlare Dell'incendio Venuto nella serata Di lunedì L'incendio Che ha coinvolto Una palazzina Di grandi dimensioni Ha costretto Le evacuazioni Residenti Di 5 appartamenti All'interno Dello stabile Il sindaco Di Petriano Davide Fabbirzioli Si spiega nel dettaglio Come è evoluta La situazione L'incendio C'è sul lunedì Sera All'incirca Verso le ore 21 Fortunatamente Non durante la notte Perché altrimenti Sarebbe stato Un disastro Le persone coinvolte Sono 14 persone Per un totale Di 5 appartamenti Che attualmente Sono stati evacuate E le relative famiglie In questo momento Sono ancora Da amici E familiari Ma da ieri Sono stati Già assegnati A loro 5 nuovi alloggi 3 a Monte Ciccardo E 2 a Monte Labate Adesso Adesso c'è un problema Logistico Nel senso che Ci stiamo attrezzando Per reperire Arredamenti Abbigliamento E tanti altri beni Di prima necessità Alimentari E quant'altro Per poter far ripartire Degnamente Tutte queste 5 famiglie Tengo Di poter dire Che Già da sabato Se non tutte 3 o 4 famiglie Potranno già rientrare Delle 3 persone Portate in ospedale Una è stata dimessa Tutte 3 sono state dimesse Una nell'immediato Mentre invece Le altre 2 Necessitano di medicazioni Che verranno effettuate A casa Hanno delle fasciature Hanno delle scoriazioni Dovute chiaramente All'incendio Alle braccia Dal viso Nel frattempo Ci sono aggiornamenti Anche per quanto riguarda Le cause precise Da cui è generato L'incendio Allora Sono in fase di sviluppo Gli accertamenti Però è molto probabile Trattasi o di una lampada O di una stufa Una stufetta A liquido in famiglia Infiammabile Al 99% E questa dovrebbe essere La causa scatenante Partita da un appartamento In un salotto Che comunque c'era Sia il salotto Sia la lampada Con liquido infiammabile Sia la stufa Sia un'altra stufetta E da lì poi divampato All'interno dell'appartamento E anche negli altri In questo momento Tutti gli nostri sforzi Devono essere profusi Per cercare di dare Immediatamente Un alloggio nuovo E degno alle cinque famiglie Sfollate Chiaramente Siamo già in contatto Con i tecnici del comune Le ente era E poi ci saranno Di sopra luoghi Anche da parte Delle assicurazioni Perché è nostra premura Partire immediatamente Con una valutazione tecnica Dei lavori da fare E ripristinare Il primo possibile Gli attuali alloggi Chiaramente All'interno Sono devastati Speriamo che la struttura Portante Piramidale Possa Possa essere Non sostituita Perché a quel punto E lui Sennò diventerebbe Un intervento strutturale Importante E non riuscirei A quantificare Nell'immediato I tempi Mentre invece È mio interesse Anche comunque Della comunità Farli rientrare Speriamo nell'arco Di 8, 9, 10 mesi E proprio in questi giorni A Vallefoglia Sono iniziati i lavori Per la realizzazione Del nuovo comune A Montecchio In questi giorni La ditta Giannelli Impianti SRL Sta eseguendo i lavori Per la realizzazione Di 50 pali di fondazione Sui quali Verrà posizionato Un essolaio Dove si edificerà Una struttura Prefabbricata In elegno Distribuita su tre piani Con una superficie Complessiva Di 1200 metri quadrati La struttura Che sarà interamente Antisismica E ignifuga Consentirà Di ottenere Notevoli risparmi Dalle punti di vista Energetico E permetterà Allo cittadino Di trovare Tutti i principali Servizi Offerti dalle comune Ed era questa L'ultima notizia Per quanto riguarda Quest'edizione Delle Vallefoglia Magazine Io vi ringrazio Per essere stati con noi Nostra compagnia Qua su Rossini TV Vi rinnovo l'appuntamento Venerdì prossimo Il 12 di febbraio E vi auguro Una buona serata La buona serata Sì Grazie a tutti.